E' una scena inaspettata Era Peter, con un gessetto in mano E un compagno accanto Aveva scritto un'equazione Osservo bene l'equazione Ed era Prof Uguale M***a Soltarmi questa mattina Sì Ok, chiaramente lui è un gran paranoico Cioè si è flashato che sta cosa era indirizzata a lui Era diretta a lui Ma in realtà, cioè no, veramente Ma che ci pensava, vuol dire tutta questa importanza Ma chi gliela dà? Mi guardava con lo sguardo così da sfida A petto in fuori Questa scena mi ha mandato in bestia Grazie Poi dico io Ma tu hai visto l'equazione già fatta Cioè la scritta